. Soleil Sorghè compra casa vicino a Marco Cartasegna? Ecco la storia su Instagram che fa discutere foto, video. . Soleil Sorghè compra casa a Milano, l'ex corteggiatrice lo ha fatto capire chiaramente dalle sue Instagram stories, tra l'altro messe online proprio nel giorno della diretta del grande fratello Vip. Soleil dunque era a Milano, lontana chilometri da Roma e dalla casa del GF dove ci si aspettava potesse entrare per chiarire con Luca Onestini o quantomeno per lasciarlo guardandolo negli occhi, non solo, la Sorghè è impegnata nell'acquisto di una casa e qualcuno, dopo la puntata di ieri sera, pensa che nel progetto sia compreso anche Marco Cartasegna. . Durante la diretta del grande fratello, infatti, Alfonso Signorini ha mostrato le immagini di un servizio che uscirà su chi con le foto di Soleil e Marco Cartasegna insieme a Milano, fuori casa dell'ex tronista, le prove che tutti aspettavano dell'effettivo tradimento della Sorghè. . È lecito quindi pensare che l'acquisto della casa a Milano riguardi anche Marco, se non si tratta di una vera e propria convivenza, che sembra prematura, è possibile che Soleil abbia comprato casa vicino a quella di Marco. . 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